Sono una quarantina le persone al servizio della mensa dei poveri che dal terremoto ad oggi ha raddoppiato l'utenza. Oltre un centinaio di persone ogni giorno, tra le persone che si rivolgono alla fraternatà o anche famiglie con bambini piccoli che chiedono aiuto anche per pagare le bollette a fine mese. Dati e numeri preoccupanti per una città terremotata che deve fare i conti con i nuovi poveri troppo spesso dimenticati. La frequentazione è molto alta e l'utenza è diversificata. È aumentata oltre il 50% da quello che avevamo prima. Prima si contavano intorno a 50 persone, 55-60 massimo. Adesso siamo arrivati a 110-120 persone. Al giorno? Sì, al giorno. Al giorno che vengono a sedersi a mangiare il pasto caldo. Poi ci sono tante famiglie che vengono a prendere la busta alimentare ogni settimana. Più tutto l'asporto che viene fatto ogni giorno. Vediamo purtroppo la presenza di bambini qui nella mensa, cosa che non era mai successa, di donne con bambini. Perché non sanno dove andare, chi dove chiedere. Quindi vengono qui anche a consumare il pasto. Prima non si vedevano questi fenomeni. È un problema da affrontare, serio, che tutta la città deve affrontarlo con coralità di intenti. L'unica fonte di approvvigionamento che abbiamo, ci spiega Pierino Giorgi, responsabile della Fraterna Tau, è quella che riceviamo dalle offerte degli aquilani nei punti offerte allestiti all'interno dei supermercati. Poi c'è il banco alimentare che fornisce prodotti a Gea. Ma tutto questo non basta se pensiamo alle porte della mensa di Celestino, dove bussano anche i familiari di studenti che non sanno più come pagare gli affitti arrivati alle stelle. Dobbiamo fare i conti con questa nuova realtà. Queste persone ci chiedono un'accoglienza, ci chiedono di essere un po' tolleranti con loro. Anche qui nella mensa il bisogno è diversificato, per cui ci sono tante persone che pensano di ricostruire un loro percorso personale di abitativo e di lavoro all'Aquila e che chiedono di essere aiutate. Grazie.